Il solito posto dove l'altra volta trovare 7,1 kg ma eravamo 4, stamattina non una grande caccia comunque le galle in circa sanno 1,8-2 kg e comunque udite udite una galletta fresca eccola qua ora la prendo la metto la vicino questa è una galletta fresca si vede bene per lo svelta poi qualche bel dormiente tipo questo parecchia roba piccola comunque 1,8-2 kg di dormienti considerando che sono entrato nel bosco che era quasi mezzogiorno ora non so che ore siano ma così a che croce sarà luna non credo che sia di più luna 06 quindi un'ora ok stop